Gloria a Dio meraviglioso, diamo un applauso al Re dei Re, al Signore dei Signori, a Lui che è degno, che è buono, che ci ama, dia alle persone accanto a te, sorridi che Gesù ti ama! E questo è il posto più bello, più bello, che presenza gloriosa, potevamo stare ad adorare almeno per un'altra orretta e mezza, il Signore è buono, gloria a Dio. Allora, mettiamo subito la locandina, brothers and sisters, yeah, mi è piaciuto, accomodatevi, gloria a Dio. Chi siamo noi, fratelli e sorelle? Guardalo, guardalo che c'è un bel fratello accanto a te e c'è una sorella bellissima accanto a te, apprezziamoci popolo di Dio, apprezziamoci, no, facciamoci a pezzi, stimiamoci, ok? E ringraziamo Dio, perché ogni fratello, ogni sorella è un dono prezioso che Dio ci ha dato, amen? Benvenuti a tutti quelli che siete qui per la prima volta, che siete ritornati, siamo felici di avervi qui in mezzo a noi. Subito voglio leggere un versetto bellissimo, che si trova in Isaia 41, il verso 6. Ognuno aiuta il suo compagno e dice al proprio fratello, coraggio. Wow, che parola potente stasera. Dilla alla sorella accanto a te e al fratello, coraggio. Lasciamolo questo versetto straordinario. Essere fratelli e sorelle nel Signore significa anche essere compagni di viaggio, amen? Perché noi stiamo correndo una gara, stiamo facendo un viaggio, siamo in missione, abbiamo una visione che Dio ha dato la nostra vita e in questo viaggio, che su questa terra diciamo di passaggio, siamo pellegrini, non apparteniamo alle cose di questo mondo, stiamo viaggiando verso il cielo ed è bello avere un viaggio. Un buon compagno di viaggio, no? Vi immaginate, io mi ricordo, perché mio padre è ferroviere, era ferroviere ora in pensione, e mi ricordo tutte le volte che dovevamo fare un viaggio sul treno, che meraviglia! Già quando eravamo piccoli, io e mio fratello Davide in particolare, perché noi eravamo sempre quelli più vicini d'età, e papà papà ci porti sul treno! E mi ricordo, sì, che era festa, lui aveva un mazzo di chiavi che apriva tutte le porte, là dentro il treno diventava, che meraviglia, mi sembrava che stavo facendo un viaggio chissà dove, e poi dovevo saltare da un vagone all'altro e vedevo il vuoto, le rotaie, e dicevo, ma in questo viaggio però non ho paura, perché accanto a me c'è mio fratello Davide, perché avevo sempre lui, se non avevo lui, povero Davide, mio fratello era il pastore della chiesa, ma se dovesse raccontare tutte le notti che l'ho letteralmente inquietato, Davide ho paura del buio, Davide mi racconti una favola, una storia, la luce questa, cioè non è che mi raccontava la prima, la seconda, la terza storia per farmi addormentare, fino al punto, e lui era molto paziente, fino al punto che diceva, papà vogliamo spegnere la luce, te la porti nella tua stanza Miriam, basta, allora mio padre, ti prometto che domani andiamo sul treno, va bene, ti addormenti, va bene, ti compra la luce piccolina, e nel viaggio della mia infanzia, mio fratello Davide è stato prezioso, meraviglioso, anche nell'adolescenza, sapete, perché poi con i compagnetti non era tanto facile, al liceo non ne parliamo, quindi io seguivo la scuola, sia le elementari, che le medie, che a liceo, dove puoi andare, a liceo perché c'è mio fratello Davide, quindi questa protezione, avere un buon compagno, che sia fratello, ma che sia soprattutto fratello nel Signore, o sorella nel Signore, è coraggio, ti dà coraggio, perché? Perché dal latino corabeo, coraggio significa avere a cuore, il coraggio non è della mente, ma è, dillo con me, del cuore, avere a cuore, simpatizzare con quella misericordia, con quella buona volontà, con quella voglia di aiutare, anche con il sacrificio, per agire con cuore, per mettere da parte un attimino il tuo io, il tuo bisogno, quello che devi fare, per aiutare chi è più debole. Avere coraggio è una forza d'animo, è una virtù che ti aiuta a superare momenti difficili, perché momenti difficili, anche se siamo fratelli e sorelle, anche nella stessa famiglia li possiamo attraversare. E cosa facciamo? La Bibbia dice guai al solo, è meglio avere un fratello nell'adversità, un amico che ti ama in ogni tempo, che ti consiglia nella verità, una sorella che ti incoraggia, che prega per te, che ti rialza e che ha cuore. Questo anche il mondo lo dice, quando una persona ha cuore, una persona è di cuore, com'è? Sensibile, dillo con me, sensibile, è empatica, com'è? È empatica, cioè che sente prima il tuo dolore e stende le braccia per aiutarti e anche caricarsi di quello che stai attraversando per non giudicarti, ma per sostenerti. E a volte succede che all'interno della stessa famiglia uno può essere più pigro e l'altro più laborioso, uno può essere più pauroso e l'altro più coraggioso, però la diversità non serve per scannarci, la diversità nell'unità è una benedizione, serve per completarsi e complementarsi ed aiutarsi e incoraggiarsi. Amen? E se tu hai un cuore che batte, fallo battere per Gesù, in modo tale che quando il tuo cuore contempla il cuore di Gesù, avrai il coraggio di aiutare anche i tuoi nemici. Questo ci ha insegnato il Signore Gesù, perché Gesù ci ha insegnato a fare del bene anche a chi ci fa del male e questo significa essere figli di Dio. Però essere figli di Dio non significa che siamo perfetti, vi siete guardati bene? Avanti, riguarda tuo fratello, riguarda tua sorella, hai visto quante imperfezioni ha? E non sto parlando di rughette, sto parlando che ha le volte, ma io ti amo nell'amore del Signore e ti farei l'imposizione delle mani. Ma l'imposizione delle mani così o così? L'imposizione delle mani biblica è così, no? Stendi per pregare. Eppure stasera venite con me un attimo, entriamo in alcuni personaggi dal vivo, della storia, della parola di Dio. Quindi io li chiamerò voi silenzio, non vi distraete e poi mi aiuterete. Allora, chiamo davanti Anthony e Davide, Pasquale e Jonathan. Serena e Giulia. Rosario e Davide Foti. Rosi e Nadia. Eh, Dio e Tommaso. Anna, Giada ed Ambra. E allora? Vi piacciono? Sono bellissimi? Prima coppia. Ognuno di loro mostrerà qualcosa? Prima coppia, Anthony e Davide. Allora, siamo nell'Antico Testamento, vi do un indizio. Chi sono loro? Vi aiuto. Sono dei fratelli. Chi sono? Bravissima, Caino e Abele. Un applauso. Brava. Allora, Caino era il maggiore, Abele era il minore e si trovarono un giorno ad offrire davanti al Signore un'offerta, ma un'offerta non fu gradita e un'offerta fu gradita. Ok? Fermiamoci qua. Cosa è successo nella storia? Si sono litigati? E forse qualcosa in più? Sela. Giriamo. Secondi, Pasquale e Jonathan. Io mi spavento. Chi sono loro? Siamo sempre nell'Antico Testamento. Lui lavora, lavora e mangia, ma lui invece sa come scartare. Come? Giacobbe. Eh però no, un applauso a Martina così non parla più. Ragazzi, studiate personaggi della Bibbia. Brava. Giacobbe ed Esau erano fratelli. Ok? Ma lui era più portato per la terra, lui era più portato per la carne, gli piaceva cacciare, gli piaceva, eh o li fatevi in mezzo che... Lui invece stava a casa. Lui era il maggiore e lui era il minore, anche nella realtà. Dunque, però succede qualcosa tra questi due fratelli. Ed è entrato l'odio, è entrata qualcos'altro. Ma ahimè, anche qui, cosa succede? Sela. Terza coppia. Serena e Giulia. Chi sono loro? Siamo sempre nell'Antico Testamento. No, siamo nell'Antico Testamento. Sono sorelle, ovvio, se loro sono frate... Bravissima! Un applauso! Lea e Rachele. Loro erano sorelle, erano promesse spose, ma la più grande, o anzi la più piccola, ha ricevuto un torto, perché prima si doveva sposare la più grande. E che cosa è successo tra di loro? Non c'era empatia. Poi una aveva figlie e l'altra non aveva figlie. E c'era gelosia. Ma? Sela. Andiamo avanti. Altra coppia, Rosario e Davide. Siamo sempre nell'Antico Testamento. Vi ho un indizio. Sono figli dello stesso padre, ma di madre diversa. Ah, vabbè, è troppo facile. Questa tunica è troppo bella, eh Giuseppe? Bravissima. Uno è Giuseppe. Ma ora andatemi a dire tutti gli altri undici. Chi sono? Chi è lui? Non è Giuda? Non è Beniamino? Bravissimi! È Ruben. Perché della tribù? Lui è il primo genito. Ma ascoltatemi, lui era il primo genito di una madre. Lui era il primo genito dell'altra madre, ok? Di Lea e di Rachele. E che cosa succedeva? Che tra di loro, ma chi è la progenitura? Voi sappiamo tutta la storia di Giuseppe, ok? Anche se il suo nome significa primo genito, Ruben, il suo cuore era sempre pieno di rancore, di amarezza, di gelosia. Perché Giuseppe era favorito. Giuseppe era amato non soltanto dalla madre, ma anche dal padre, ok? E poi vedremo un'altra cosa. stasera. Eccoci qua nel nuovo untuffo, nel Nuovo Testamento. Vai? Marta e Maria, un applauso! Marta sta cucitando, stasera non ve ne andate che già abbiamo la pasta pronta. Allora, lei si affacendava troppo, troppo, e aveva dimenticato che la parte più importante era Maria. E immaginatevi ogni giorno, Marta dice, Maria, capulizia, gasbriga, ti sta prendendo il Signore? Ma proprio niente devi fare, ma tutte cose io devo fare a casa, ma tu che cosa fai? E Maria bella tranquilla, io canto, io adoro, io prego, sì ma le cose si devono fare perché Gesù piacciono. Che cosa c'era? Stress in questa casa. Sela. Andiamo sempre in un viaggio nel Nuovo Testamento. Simone e Davide? Chi sono loro? Boane e Gerse, ok. Che significa figli del tuono? Ma qual erano i loro veri nomi? Giovanni e Giacomo. Cosa succede tra di loro? Noi siamo impetuosi, noi vogliamo servire il Signore. Sì, e allora? Mandiamo fuoco dal cielo e sterminiamoli tutti. Ops, ma erano discepoli del Signore Gesù. E cosa insegna Gesù? Ad avere grazia e misericordia. Non giudizio, fulminiamoli tutti. E questo ha comportato tra di loro. Aspetta, ma sei stato tu più duro? Sono stato più duro io. Ma sei meglio io o sei meglio tu? Cosa c'era tra di loro? Fino a quando è arrivato Gesù e ha messo ordine con la sua parola di amare, di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Non è chi ducchi ti piace e chi ducchi non ti piace, ma ad ogni creatura. Andiamo avanti. Prego, nuova, nuovi, Tommaso. Chi sono loro? Pietro e Andrea, i primi discepoli del Signore. Eh? poco poco più là. Ok. Chi erano loro? Che mestiere facevano? Erano? Dei pescatori. Ma alla parola del Signore Gesù hanno lasciato tutto per servire Gesù. E secondo voi, tra di loro cosa dicevano? E ora come campiamo le nostre famiglie? E ora come facciamo a provvedere? Dobbiamo servire Gesù. Ci ha detto, lascia tutto e seguimi. Com'era la loro condizione? Che siamo sicuri? Ma ce la faremo? Ma ci fidiamo del Signore? Ma Gesù mi dice, seguimi, ma poi ce l'avrò un piatto a tavola? E che dirò a mia moglie? Come faremo? Pietro e Andrea si sono fidati della parola di Gesù. Ok? E hanno messo da parte la paura. Dillo con me. La paura. Perché molti giorni, oggigiorno, ci sono molti Pietro e Andrea che vivono ancora nella paura. Ce la farò? Il mio futuro? Il mio lavoro? Il mio domani? Ma se si comportano come Pietro e Andrea. Hanno ubbidito, hanno ascoltato e si sono fidati della voce, del comando di Gesù, poi vedremo che hanno prosperato. Ultimi? Sorpresa! Ritorniamo nell'Antico Testamento. Chi sono queste bellissime? Allora, sono tre sorelle. Le ho scelte tutte e tre perché nella realtà sono mamma e figlie, però sono tre sorelle bellissime. Chi sono? Questo è difficile. Tre sorelle bellissime. Allora, il significato dei loro nomi è particolare. Ma magari mi dite... Tre sorelle. No, no, la sua... Brava! Sono le figlie di Giobbe. Quando Giobbe si è ravveduto dal suo peccato, Dio non solo l'ha restabilito lui personalmente, ma anche come famiglia, ma anche come proprietà, bestiame, benedizioni. E ci fu Colomba, o un'altra versione dice Gemima. Ci fu Cassia, o Chiesia. E ci fu Cornustivia, oppure l'altro nome si chiama Kerenapuk. Perché i loro occhi erano bellissimi. Non si erano mai visti, mai! Donne cose così belle. Ok, grazie a tutti potete andare. Un applauso a questi autori bellissimi! Prima di ritornare ai personaggi, leggiamo in Prima Giovanni capitolo 4, versi 20 e 21. Se uno dice, ascoltate con attenzione, io amo Dio e odio il fratello o la sorella, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui, che chi ama Dio ami anche il proprio fratello o la propria sorella. Amen? Caino e Abele erano i primi figli di Adamo ed Eva. Tutto era bellissimo, tutto era glorioso, però poi c'è stato il peccato e il salario del peccato è morte, è separazione e col peccato è entrata invidia, gelosia, amarezza, angoscia, paura, rabbia, ok? E Caino, anche se quello era Abele, sangue del suo sangue, la gelosia, l'invidia lo portò ad uccidere suo fratello. E poi quando si presentò davanti all'Eterno Dio disse, dov'è tuo fratello? La terra grida del sangue di tuo fratello. Questo era l'Antico Testamento, l'avevo ucciso realmente. Ma sai cosa dice il Nuovo Testamento? Che se tu dici, stupido, o una parola, o un'accusa, o un'ingiuria, o una maldicenza, o una parolaccia, peggio ancora, a tuo fratello tu sei omicida. Il Signore vuole purificare il nostro linguaggio. Perché la legge della grazia è più potente da trasformare. La legge mosaica, cosa ti diceva? Hai peccato, sei destinato a morire. La legge del Signore Gesù ti dice, hai peccato, puoi essere perdonato. Amen? Ecco perché il nostro linguaggio deve essere sempre purificato dalla parola del Signore Gesù. Per invidia, per interesse, lui aveva ucciso suo fratello e poi è stato maledetto. Che distruzione la sua vita, il suo futuro. Quindi stiamo attenti. Ma così anche Esau e Giacobbe, che per questione di eredità, che cosa è successo? Della prima genitura, si sono ammazzati tra di loro. E poi Esaudista e Giacobbe tutta la vita, e quando un ebreo fa una promessa, c'è odio, ti troverò, no come il film di ti troverò, ti troverò e ti ammazzerò. E tutta la vita Giacobbe doveva scappare, scappare, scappare. E quello viveva nell'odio, e l'altro viveva nella paura, nell'angoscia. Ma poi chi è imbrogliato è stato imbrogliato. Una distruzione a casa. Giacobbe, ma dove sono questi figli? Come signore? Me ne avevi dato due. Ma già Rebecca lo sapia, che nella pancia già si sciarriavano sempre. Due fratelli, stesso seme, stessi genitori, ma caratteri completamente diversi. Se invece avessero fatto regnare la presenza di Dio, la parola di Dio, se si fossero fidati di Dio, gli avrebbe acquietato ogni cosa. Perché già lui l'aveva detto, che il più grande, in Malachia è scritto, avrebbe servito il più piccolo. Ma loro hanno fatto di testa propria. E chi fa con le proprie mani o vuole barare con Dio, prima o poi, ha le sue conseguenze. Perché Dio è buono? Sì. Ma anche santo, anche giusto. E Dio non si può beffare. Se tu vuoi derubare Dio, ti stai facendo quattro conti sbagliati. Perché magari la tua calcolatrice non funziona, ma quella di Dio funziona. È come se funziona. Lea e Rachele, due sorelle. Una era bellissima, Rachele, era più giovane. Lea non era tanto bella. Quindi tra di loro sapete che potevano accadere sospetti? Io non so chi, ma a volte anche all'interno della famiglia. Tu sei il bruttanatroccolo, io sono il cigno. Oppure tu con gli occhiali bassina, grassottella. Guarda come mi ha fatto mamma. Bella, altra, bionda. Non ho capito perché muore che siamo. E c'era invidia. E c'erano gelosie. E c'era amarezza. E poi al momento del matrimonio ci fu inganno. Perché prima si doveva sposare quella grande. E allora vedete, si è invertita. Come? Dovevo essere io la prima innamorata. Ora sei tu la prima moglie. E poi ancora quest'odio ha portato sterilità. Perché tutte le parole sbagliate che vengono dette hanno delle conseguenze. Perché la fede funziona così. O nel bene, fede positiva, e ricevi bene. O la fede negativa, e ricevi male. E io non mi sposo. E io non avrò un buon futuro. E io... Tutto quello che tu dici negativamente avviene. Se tu invece dici io mi fido di Dio, amo Dio, so che Dio mi ama, mi provvede, mi protegge, mi dà ciò che ho di bisogno. Dio lo farà. Amen. Il suo cuore era ferito. E quando non ebbe figli, e Lea invece, che aveva figli, che cosa cominciò a dire? Ah, il riscatto, Dio c'è, mi fa giustizia. Sì, ma poi finì pure Idda. Si è fermato pure il suo grembo. E allora cosa ha fatto? Oddio, pietà di me, aiutami ad avere un altro figlio. L'altra, che aveva avuto Giuseppe, e poi dopo tanti anni ha avuto Beniamino, che purtroppo quando l'ha partorito è morta, lei lo chiamò Benoni, figlio del mio dolore. Ma suo marito disse no, sarà figlio della mia destra, Beniamino. Questo per dire che la mano di Dio, la destra di Dio ci fa giustizia. È un versetto, Isaia 41, 10. Non temere, dice il Signore, anche nelle versità, anche nelle cose difficili, impossibili, se io ho detto che si avviene, avviene. Ti prenderò con la destra della mia giustizia, non temere, ti rialzerò, ti fortificherò e tu troverai pace anche nella tua condizione. Ma non portare invidia a tuo fratello se sta prosperando. Non gioire invece se gli sta accadendo una cosa male. Quindi analizziamo le attitudini con coraggio e stasera diciamo al Signore e togli da me tutto quello che non è cuore. Ma cuore inteso come abbiamo detto, coraggio di amare, coraggio di sostenere, coraggio di perdonare, coraggio di non desiderare il male, coraggio di rallegrarti se tuo fratello, tua sorella è più benedetto di te. Diti amén. Alleluia. Questo deve essere lo Spirito di Dio che ha legge nella Chiesa. Che se tua sorella si fa una bella macchina, devi dire gloria a Gesù, sono contenta. Amén. Mai portare invidie, mai portare rancore, mai avere gelosie, ma rallegrati di chi sta prosperando. E se vedi chi invece è un poco giù, è un poco scarso e Dio ti ha benedetto. Aiutalo. Non c'è gioia più grande di essere una benedizione per gli altri. Amén. Poi abbiamo visto Ruben e Giuseppe. Come ho detto Ruben è il primo genito di Lea e Giuseppe era il primo genito e tutti sappiamo di Rachele, sappiamo la storia. Giuseppe aveva più intimità e non era un discorso di età che rivela la tua autorità, ma è un discorso di cuore. E Giuseppe aveva intimità con Dio, pregava, amava stare con Dio. Ecco perché Dio gli rivelava attraverso sogni cose gloriose. Amén. Ruben guardava più le cose materiali. Lavoriamo, facciamo questo, io devo pensare alla casa, io sono il più grande dei fratelli, devo preoccuparmi dei miei fratelli. Giuseppe invece pregava e il Signore gli rivelava i suoi sogni e tutti si inchineranno davanti a te. Il sole, la luna, le stelle. E io immagino 17enne, 16enne, con quella tuta tunica che mi ha regalato papà, vado poi dai miei fratelli e comincio ad innalzarsi anziché di essere grato. Ah sì, ma siccome Dio è giusto e non fa particolarità, Giuseppe, anche se io ti ho dato una bellissima visione e dei bellissimi sogni, devo modellare il tuo carattere. Cosa ha passato Giuseppe? È stato venduto, è stato fatto schiavo, è stato in Egitto, ha dovuto imparare la lezione, che se tu hai cose gloriose devi stare sempre in umiltà, perché tutto è per la grazia di Dio. Amen. E lì con coraggio ha subito tanti anni dentro le carceri. E poi Dio sempre lo ben diceva perché la benedizione, il favore di Dio era su Giuseppe. Ma arrivò un'altra prova nella sua vita, quando poi vede arrivare i suoi fratelli. E questo è l'episodio in Genesi, non posso prendere tutti i versetti, sono straordinari. Sapete cosa ha detto i suoi fratelli? Voi avete pensato di farvi, di farmi del male, ma Dio l'ha cambiato in bene. Quindi anche se tante persone maledicono la tua vita, ti parlano contro, ti remano contro, ti disprezzano, tu di il mio Dio cambierà ogni male in bene. Amen. Diamo un applauso al Signore che veglia sempre sulle nostre vite e che sovrano sempre nella nostra vita. Poi abbiamo visto Marta e Maria, l'ho spiegato quindi mi trattengo poco su questo esempio. Marta era affaccendata e giudicava sua sorella. E quando ti smuovi e svegliati e fai le cose e muoviti. E non si può vivere solo di preghiera, sennò quando manciamo. Ma non è giusto che faccio tutte cose io, devo pulire, devo stirare e tu dormi e tu, alleluia, canti. Ci vuole l'uno e l'altro. Vero, eh? Ci vuole l'uno e l'altro. Ma Gesù disse, Maria ha scelto la parte migliore. Io quando insegno le riunioni delle donne, dico questo, ognuno di noi deve avere chiara la priorità. E la priorità è che la parte migliore è stare con Gesù. Ma se sei una donna che è stata con Gesù, vi ricordo che Gesù era falegname. E questo significa che come falegname e carpentiere aiutava suo padre, lavorava, i muscoli se li era fatto. Quindi ogni donna, ogni uomo, anche se tu stai lavorando nel tuo lavoro secolare, non dimenticare mai che il tuo primo obiettivo, lavoro, posizione nel regno di Dio è adorarlo, è servirlo e tutte le altre cose ti saranno sovrabbondate. Amen. Poi c'erano Giacomo e Giovanni, anche loro, queste fiamme di fuoco. Sì, sterminiamoli, bruciamoli tutti perché siete dei peccatori, voi andrete all'inferno. Poi arriva Gesù, calmi tutti, pausa, aspetta, io immagino, ha preso il telecomando e zittiteve, basta. E loro sono rimasti così, in stand by. Io sono venuto per salvare ciò che era perduto. Dice il Signore, io sono la grazia, la verità e la vita. Io odio il peccato, ma amo il peccatore. E allora, poi, quando Giovanni è stato col Signore Gesù, avviene questa trasformazione da parte dello Spirito Santo. E lui, con umiltà, ha imparato ad amare gli altri, perché era stato col Maestro. E se voi leggete San Giovanni e tutte le epistole, proprio le abbiamo letto, lui dice, come fai a dire che ami Dio e odi il tuo fratello? Ma chi gliela vuoi raccontare? Perché? Bisogna avere coraggio di mettere a morte il proprio io e far regnare Dio. Togli la tua presunzione, togli la tua ragione e pensa come discepolo del Signore, come farebbe Gesù? Cosa direbbe Gesù? Come l'aiuterebbe Gesù? Gesù non soltanto aveva coraggio, ma aveva misericordia. misericordia vuol dire avere a cuore le miserie degli altri. Amen. Poi, velocemente, vado a Pietro e Andrea. Loro stavano pescando, avevano la famiglia, avevano un buon lavoro, stavano bene. Quanto sei disposto a lasciare tutto per seguire Gesù? A volte lo vedo pure nel dare le offerte le decime, no? E se poi do la decima, ci arriva a fine mese. Sì, tu vuoi essere benedetta, vuoi essere gioiosa, vuoi la grazia di Dio, vuoi prosperare, vuoi, vuoi, vuoi tutto. Però, poi cosa succede? Che chi non onora Dio, Dio non l'onora e i nodi verranno tutti al pettine e purtroppo, purtroppo, vedrai che questa tua sicurezza scemerà. Perché se non onori Dio, Dio come può benedirti? Dio come può onorarti? Dio è fedele, Dio è verace. E ti dico una cosa, nel tuo dare stai sottolineando l'importanza di tuo padre. Perché se tuo padre viene dopo la benzina, dopo la bolletta della luce, dopo la spazzatura, io non so tu che posto gli stai dando anche nella tua preghiera, nella tua quotidianità. Amen. Poi, le tre bellissime, Colomba, Cassia e Cornostibio, Gemima, Chiesia, Chiaranapuk. Interpretate questi bellissimi occhi. Questo è il riscatto del Signore. Tutti noi ci siamo sentiti abbandonati, giudicati, derisi, anche perseguitati per il nostro fisico, per l'origine da cui veniamo, quindi la nostra famiglia, alcuni anche per la razza. Io mi metto nei panni, eh tu sei, vieni dall'Etiopia, eh tu vieni dal Marocco, tu vieni da piana, tu vieni da disprezzo. Eppure Gesù, sai cosa fa? Sceglie le cose deboli per svergognare le forti. E Dio ha riscattato Giobbe, quando la sua prima moglie gli disse, erli nega a Dio e poi muori, ve lo vedi sei malato. E poi gli amici, graziosi. Ma poi arrivò un compagno, brothers, un fratello, che gli disse, Elihu a Giobbe, ascoltami amico mio, ti parlo dal cuore. Ha avuto coraggio? Sì. E gli ha detto, la tua condizione, non va. Circondati di fratelli, di sorelle che ti amano veramente e che ti dicano la verità con amore. Non sono quelli che, noi diciamo, allisciano, non sono quelli che ti abbracciano e ti dicono sempre che sei carina, che sei brava, ma quanto sei meravigliosa. No, ama e apprezza di più la sorella e il fratello che ti sta dicendo, ascoltami, te lo dico come fratello e come amico, vedi che questo sentiero che stai attraversando ti sta portando a dei vizi e questi vizi ti porteranno in un borrone e questo peccato diventerà così forte che ti stai scavando la fossa per l'inferno. Un amico cosa fa? Stende il braccio e ti dice, aggrappati, ti aiuto io. Un amico a misericordia, un fratello, una sorella, non ti giudica ma ti porta alla presenza di Gesù. Poi c'è un altro, mi piace tantissimo, se si possono alzare, salvo piano, dove sei, vieni qua, Gian Bruno, vieni qua, un altro fratello, Antonio, vieni qua, poi Federica, vieni qua, Aurora, Angela, vieni qua, sì sì, allora, sorpresa. Poi, un altro, Gaspare, poi c'era un super fratello meraviglioso che era Gesù, lo sapete che Gesù abbiamo detto che era figlio? Sì, ma aveva anche dei fratelli, questo è scritto in Matteo 13, 55 e 56 e c'era Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle, quindi al plural non è scritto quante sorelle avevano, però potevano essere due, tre, quattro, non lo sappiamo, questo per dire a tutti quanti che Maria non è rimasta più vergine ma che ha avuto figli e figlie, dice la Bibbia, in Matteo capitolo 13 lo leggiamo per parola di Dio, versi 55 e 56, così tutti possono andare a studiare la Bibbia. Non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Ioseo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Da dove ha ricevuto queste cose? Ha ricevuto sapienza di Dio perché era anche il figlio di Dio, amè? Un applauso, potete andarvi ad accomodare e sapete quante cose sono successe anche nella famiglia del Signore Gesù? E ora tu che sei il falegname e vuoi venire ad insegnare a noi? Gesù è stato beffato, oltraggiato, invidiato, ingiuriato e a Nazareth, ma come? Questi non sono i tuoi fratelli e le tue sorelle, ma chi ti credi di essere il salvatore? Gesù ha avuto coraggio? Sì, lo diceva proprio in riunione, Dio è sempre un Dio di generazione e un destino glorioso per i suoi figli, Gesù ha imparato anche a non rispondere alle provocazioni, questo è avere coraggio? Sì, e ha insegnato ai suoi fratelli a non ricambiare il male con il male perché poteva dire oh state zitti perché io sono il fratello maggiore, li ha amati, li ha perdonati, li ha incoraggiati, con la sua vita, con il suo esempio li ha insegnati perché poi sapete che cosa è successo? Giacomo che ha scritto l'epistola era il fratello di Gesù, è il pastore della chiesa di Gerusalemme, Giuda che ha scritto l'epistola meravigliosa che dice basata la vostra fede sulla Santissima, questa Santissima, lui aveva imparato ad appartarsi, ad avere intimità con Dio Padre perché l'esempio gliel'aveva dato suo fratello maggiore, quanti fratelli e sorelle maggiore ci sono in questo luogo? Potete alzare le mani, siate ad esempio, siate ad esempio nella vostra famiglia, incoraggiateli con la preghiera, incoraggiateli con la parola di Dio, incoraggiateli a venire in chiesa, non dili vattene alla riunione tu ti stai a casa, ti prendo e ti porto perché hai la patente per dare passaggio, giusto? ai più piccoli? Eh! E poi una cosa che Dio ha messo nel mio cuore, che Gesù è il migliore dei fratelli, è l'esempio, è il modello, è il perfetto, ma lì lui ci insegna a curare queste due parole che Dio mi ha dato, relazione e reciprocità. Non c'è una buona relazione se non c'è la giusta reciprocità, di che cosa? Di amore innanzitutto, di ascolto, di aiuto, di rispetto, di gratitudine, è importante perché tu non puoi dire agli altri io voglio quando tu non fai, quando tu non dai, è la relazione tra una o più persone, lì tu stabilisci i giusti rapporti, i giusti sentimenti, il giusto modo di parlare, perché se tu vuoi il rispetto e ti alzi la mattina e cominci ad urlare, e a gridare, a dire parolacce, mi vuoi dire e poi gli dici ah scusami e ti sei, come si dice, a me piace una parola, oggi me la sono lavata la faccia, io non ho bisogno che tu mi fai le battute per la vatina di faccia, ho bisogno che tu chiedi perdono e che vai e non fai di nuovo la stessa cosa e non pecchi più, perché se tu mi ammazzi oggi, mi ammazzi domani, mi ammazzi dopo domani, è vero che Gesù mette il cerotto, è vero che Gesù mi guarisce, ma sempre, 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 quella ferita mi fa così male che comincio a gocciolare da solo e appena vedo una parola, una mosca che vola, io ancora ferita, piango e sto male e ho bisogno che tu che mi hai ferito, tu, proprio tu, mi guarisci, chiedendomi come? Chiedendomi perdono, rialzandomi, incoraggiandomi, dimostrandomi che sei un figlio, una figlia di Dio, non ha parole, non ho bisogno di parole, ho bisogno dell'amore vero, dei fatti, perché se diciamo che Gesù vive in noi, noi lo dimostriamo, se tu vedi tuo fratello, tua sorella che già è da tempo, quattro volte, cinque volte, che non ti saluta, non fare l'ipocrita, non giudicarlo, va, ci acchiappalo, oh, ma Dio ha fatto qualche cosa, no, 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 allora ti dico una cosa, tu mi hai fatto più di una cosa, ma scelgo di perdonarti, scelgo di amarti, non di non salutarti, siamo cristiani, siamo discepoli del Signore, se sappiamo le cose che Dio ci dice di fare, facciamole, Gesù ci ha insegnato, ehi, voi siete i miei figli spirituali, siete i miei discepoli, lo sapete da cosa vi riconosceranno? Dall'amore che avrete gli uni per gli altri, e l'amore non sono solo parole, l'amore sono fatti, e Gesù dice io sono il buon pastore e mi prendo cura delle pecore, lasci le 99 Signore per cercare me, come tu hai fatto con me, io voglio fare con gli altri, prega, digiuna, mostra la parola che edifica, perdono, se hai sbagliato chiedi perdono, ti fa bene, ci fa bene, e poi si edifica con esperienze, ci si consola, mi piace molto mio marito quando dice meglio che ci sono fratelli e sorelle, non parlano mai, ma quando parlano distruggono, meglio che non parlano mai, perché feriscono, e allora la Bibbia dice usiamo la parola per edificare, per consolare, per incoraggiare, quando io ho pregato per questa parola, l'ho ricevuta una settimana fa, ho visto nella mia visione che dal cielo cadevano foglie, prima di preparare questa parola non sapevo ancora nemmeno il titolo, vedevo dal cielo che cadevano tante foglie, foglie, foglie che si posavano, fai così, sulla nostra bocca, le foglie sono parole di guarigione, il Salmo 1 dice le cui foglie non appassiscono, abbiamo detto se il tuo cuore batte, fallo battere per Gesù, ma se la tua bocca è ripiena della parola di Gesù, aprila, usala per parlare da parte del Signore e recare una buona notizia, una parola che ristora, una parola che guarisce, una parola che lenisce quella ferita che a volte anche tu stessa, anche noi stessi abbiamo creato. Luca 6, 43-45 La Bibbia dice che l'albero si riconosce dal frutto, poiché non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono, ogni albero infatti lo si riconosce dal proprio frutto perché non si raccolgono fichi dalle spine, non si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae il bene, sottolinealo nella tua Bibbia, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il mare perché la bocca di uno parla dall'abbondanza del cuore. Le tue azioni parlano di più delle tue parole e la bocca parla dall'abbondanza che c'è nel cuore. La reciprocità delle tue relazioni, vuoi amore? Dai amore, parla con amore. Vuoi rispetto? Sì, rispettoso. Vuoi gentilezza? Sì, gentile. Sì, la versione migliore di te stesso, che ogni giorno somigli un po' più a Gesù e gli altri si innamoreranno di Gesù attraverso la tua vita. Amen. Se Gesù è venuto dal Belgare e noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, si vede anche dal nostro modo di parlare, di agire, di comportarci. Amen. E sai quando? Quando tu pensi che nessuno ti vede. Ehi, la pastora non mi ha visto. Però io e me e frate ci siamo presi proprio a pugni. E poi vengo in chiesa e vengo a cantare e vengo a suonare. Pensi che forse Dio si può beffare? È successo realmente? Gli ultimi cinque secondi? Pastora non posso venire perché sono impiccicato al gabinetto, al bagno. Diciamo così. Che cosa è successo? Cucù ti sciarriaste. E traduco, con chi hai litigato? Dio non si può beffare. È rimasto bloccato nel suo bagno. Dio non ha permesso assolutamente di intaccare, di creare una breccia in quel momento nel gruppo lode. Perché Dio è santo e la sua unzione deve fluire. È meglio che tu dica non faccio il servizio, mi vado a riconciliare e vado a fare quello che devo fare che fare un servizio con la tua attitudine sbagliata o con il tuo peccato perché Dio è santo e non si può beffare. Il tuo cuore deve essere libero perché dal frutto si riconosce, quindi dalle tue azioni si riconosce chi realmente sei. Amen? I fatti parlano. E voglio fare vedere un'immagine perché non potevo portarvi i maiali, se no sarebbe stato un po' troppo, avrebbe sporcato la chiesa. Chi è lui? È un altro fratello. È il figlio del prodigo. Il figlio del prodigo ha lasciato la casa del padre, ha lasciato tutti i beni, tutta la gioia, la pulizia, l'amore, la fedeltà, la ricchezza. Ha sprecato tutto in mezzo ai porci. E suo fratello anziché pregare cosa faceva? Bene, se ne è andato, via, meno uno. Quando tu vedi un tuo fratello che se ne è andato dalla chiesa, non devi dire, bene, via, questo, proprio, manco il Signore ci poteva. Ma che frase sbagliatissima. Eh, vuol dire che doveva andare così. No. Non devi fare come poi fece il fratello maggiore, sbagliato, quella è un'altra cosa, non voglio allungare la storia. Ok? Che poi quando è tornato, disse, ah, ora facciamo la festa, il buo ingrassato, come? Lo devi mettere in punizione, lo devi punire, ma che padre sei? Ammazzalo, distruggilo. Invece il papà che fece? Questo è il cuore di Dio padre. Lo stava aspettando a braccia aperte. E quando questo figlio capì la sua condizione, ritornò a casa del padre e disse, ho peccato contro il cielo, contro te, non sono manco degno di essere come uno dei tuoi servitori, ma ti prego, perdonami. E il padre gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò e gli disse, io ti stavo aspettando. Stavo pregando per te. Questo è quello che dico a tutti, tutte le volte che vedi un fratello, una sorella ritornare, o lo vedi anche al supermercato, o lo vedi anche lì sulla macchina, fermati e digli, io ti voglio bene, sto pregando per te. Non vedo l'ora che ritorni alla casa del padre perché c'è ancora posto. Tutti devono ritornare, tutti, nessuno si deve perdere. Gesù sta tornando e questo ci porta a pregare intensamente, come stiamo facendo, ma ancora di più, ancora di più, Signore. Prima del tuo ritorno, Signore, fa che nessuno si perda. Fa che ritornano tutti a servire te. Che gioia poter servire il re del re e non riscaldare una sedia. Ma dire un giorno, tra le braccia del padre, sentire una voce che dice buono e fedele servitore. Entra nella gioia del tuo Signore. Per questo viviamo, amen. Noi siamo chiamati a fare la differenza, a coltivare relazioni di fratelli e sorelle, veramente con coraggio, con amore. E l'ultimo versetto che voglio leggere mentre si preparano è in Ebrei 13, il verso 1, che dice Continuate nell'amore fraterno. Alziamoci. E alla persona che hai accanto a te, Anna per favore sali. Prenditi così. Aspetta così, così. Che nella locandina voi vedevate questo, no? Che non è braccio di ferro. Io non devo fare, fai resistenza, non devo fare braccio di ferro e litigare con te. E non devo fare supremeggiare la mia forza e farti sentire una debolezza, ma mettere a disposizione il mio dono per te. Ti voglio amare, ti voglio servire. Se Dio mi ha dato più forza, è per incoraggiarti, è per camminare insieme, è per fare al meglio la volontà di Dio. È perché io so che tu sei comprata col sangue di Gesù. Nelle nostre vene scorre il sangue di Gesù. E digli alla persona accanto a te, io ti amo nell'amore del Signore e sono pronta a sostenerti sempre. Cantiamo questo canto, guarisci il cuore rotto, Signore. Meraviglioso sei, meraviglioso. Guarisci il cuore rotto, con te non ho paura mai. Oh, una strada nel deserto, tu aprirai per me, tu la farai per me. Solo tu mi sai capire, mio Gesù ti prendi cura di me. Solo tu mi sai capire, solo tu. Solo tu mi sai capire, mio Gesù. Ti prendi cura di me, solo tu. Solo tu sei il mio pastore, mio Gesù. Ti adoriamo, Signore. Tu sai guarisci il cuore rotto, con te sono sicuro, guarisci il cuore rotto, con te non ho paura mai. mai, mai. Una strada nel deserto, tu aprirai per me. Lasciati amare, lasciati abbracciare, del suo amore stasera. Lasciati guarire, il suo amore caccia via ogni paura, ogni senso di colpa, di condanna. mio Gesù. Lascia che si prendi cura di te. Mi prendi cura di me. Sei figlio, sei figlia amata. Solo tu sei il mio pastore, mio Gesù. Con te sono al sicuro. Con te sono al sicuro. Con te sono al sicuro. E mentre ci prendiamo per mano, Padre, ti chiediamo, legaci con legami d'amore che non si possono rompere. Ancora e ancora vogliamo, Signore, dare agli altri ciò che tu ci dai. Ed essere degli alberi buoni, che portano frutto per la tua gloria. Che la nostra bocca possa proferire parole di guarigione. Quelle foglie che creano ombra, ristoro, protezione, consolazione, edificazione. Togli tutto ciò che impedisce la tua unzione nella nostra vita. Che sia rabbia, rancore, insicurezza, debolezza. Nel nome di Gesù ogni complesso di inferiorità, ogni dubbio della nostra mente, Signore. E fai in modo, Signore, che possiamo proteggerci, difenderci, aiutarci ed essere dei modelli per gli altri, Signore Dio. Per recuperare ancora chi si è allontanato e riportarlo nella tua casa. Avendo coraggio e a cuore misericordia, Signore, verso i più deboli, i bisognosi, i bistrattati, gli allontanati, gli emarginati, i depressi, gli stanchi, i soli, gli aggravati. Signore, questo tu ci insegni. E noi vogliamo essere come te. Grazie, grazie per questa presenza tua gloriosa e meravigliosa. E mentre ci teniamo per mano, Signore Dio, sei tu che tieni per mano la nostra vita e ci rialzi. E ci stai incoraggiando a non stancarci di fare del bene anche a chi ci fa del male. A usare parole di misericordia. A cambiare, Signore, quel fuoco che arde dentro di noi, che non sia vendetta, ma che sia trasformata in grande grazia. E dire perdonali, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Metti uno spirito di ravvedimento nella loro vita, nel loro linguaggio. Falli ravvedere, umiliare, Signore. E riportali a te, perché tu sei verità, tu sei luce, tu sei chiarezza, tu sei risposta e soluzione. Grazie, grazie. E come abbiamo detto, vogliamo ogni giorno imparare ad amarci di questo amore fraterno, di quest'amore che unisce, che è straordinario e che dà soprattutto gloria al Padre. Gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. Grazie, Padre, per questa santa riunione. Grazie per questi legami, come dice la tua parola, di stimare l'altro più che noi stessi e di non usare, Signore, la parola per ferire, ma per guarire nel nome di Gesù. Grazie, grazie, come fratelli e sorelle, figli dello stesso Padre. Vogliamo amarci gli uni e gli altri e fare la differenza in questa generazione. nel nome di Gesù. Amen. Grazie. ruktura. Grazie a tutti